Musica Benvenuti al TG10 Mancano poche ore ed il giovese Don Angelo Ventura sarà il nominato parroco della Chiesa Santa Maria delle Grazie di Pietra Perzia in provincia di Enna L'appuntamento è per domani presiderà la solenne celebrazione il Vescovo di Piazza Almerina Monsignor Rosario Gisana Angelo Ventura, 37 anni, ordinato sagerdote il 19 aprile del 2009 è cresciuto sotto la guida spirituale del compianto Monsignor Grazio Alabiso proprio in Chiesa Madre ha ricoperto per 5 anni l'incarico di vicario parrocchiale adesso lo attendono, come dicevamo, i fedeli di Pietra Perzia e noi questa mattina abbiamo proprio incontrato Don Angelo Ventura Don Angelo Ventura, quale sensazione prova attualmente a poche ore dal suo nuovo incarico dal suo nuovo insedimento nella parrocchia di Pietra Perzia? Certo, è un'esperienza nuova per me da 8 anni quasi che sono sacerdote sono stato viceparroco prima i primi due anni e mezzo nelle parrocchie di Niscemi 5 anni sono stato in Chiesa Madre sotto la guida sapiente e vigilante di Monsignor Alabiso che è stato il mio maestro alla quale ho appreso tantissimo e adesso mi sento pronto attraverso quella che è la volontà di Dio che si manifesta attraverso la voce del Vescovo mi sento pronto a poter affrontare questa nuova esperienza che diventa un'esperienza di paternità spirituale adesso l'incarico di parroco mi chiama a una guida molto più puntuale per essere molto più attento a quelle che sono le problematiche del contesto in cui sono stato inviato per essere attento al servizio ai poveri e soprattutto a quella che è la fascia meno agiata che sono i malati e nell'esperienza della guida dei giovani che sono il fondamento e il principio primo di quella che è la società per vivere l'esperienza ecclesiale all'interno di un contesto che per loro diventa familiare e che poi è espressione concreta di quella testimonianza del Cristo che si manifesta nella loro vita Ecco, e di Gela a Pietro Berzia cosa porterà? Certo, di Gela porto tutto quello che è la novità e la vivacità della nostra città e quindi il cercare di poter portare quell'entusiasmo che io ho potuto maturare attraverso questi anni di servizio qui a Gela e adesso penso soprattutto con la grazia e con l'aiuto di Dio di poter sostenere quelle che sono le fatiche del ministero di accettare una volontà che a volte non è semplice però inserita nella storia di Cristo diventa storia di salvezza questa è la speranza che mi aiuta e che mi incoraggia nel cammino per andare a cercare e a vivere il servizio Ecco, lei parlava poco anzi di Monsignor Labbiso che ha lasciato e lascia un ricordo interebile per lei che esperienza è stata? Certo, per me è stata un'esperienza di formazione forte io sono cresciuto e nato in Chiesa Madre e poi la provvidenza ha voluto che gli ultimi cinque anni della sua vita di servizio pastore in Chiesa Madre e della mia esperienza sacerdotale la vivessi in stretto contatto proprio con lui e da lui ho preso moltissimo anche l'attenzione a quelle che sono le fasce più meno agiate, i poveri l'attenzione a quelli che sono i diritti dei lavoratori quelli che sono i diritti fondamentali di ogni uomo e questo è quello che porta anche se lui era molto fermo nelle sue decisioni la cosa che ho potuto apprendere è l'amore alla Chiesa lui amava tantissimo la Chiesa e mi diceva sempre di poterla servire e sempre di potermi rendere disponibile a quel che è il servizio di Dio attraverso l'operato dei fratelli e la cosa bella che è tale tantissime cose che ho appreso e il servizio ai poveri Cambiamo argomento è stato arrestato e tradotto in carcere il gelese Nunzio Parisi 36 anni pregiudicato che vediamo nella foto destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Gela ad ammai nottarlo sono stati i carabinieri Parisi era finito Gemmanette lo scorso aprile per estorsione la condanna per cui è stato recluso si riferisce ad episodi di droga minacce e destorsioni commessi nel 2009 e nel 2011 sempre i carabinieri a Riesi hanno arrestato Luigi Scaffini 38 anni nel 2009 l'uomo partecipò ad una rissa per la quale adesso è stato condannato ora è recluso nel carcere di Caltanissetta la misura cautelare è stata emessa dalla procura della Repubblica Nissena e a Gela la polizia ha controllato 431 persone e 199 veicoli elevando 15 contravvenzioni sottoposti a perquisizione 11 soggetti esaminate le posizioni di 40 persone ai domiciliari di 25 sorvegliati speciali di pubblica sicurezza e di 2 liberi vigilati 4 gelesi di età compresa tra i 46 e i 24 anni sono stati denunciati a vario titolo per ricettazione abbandono di rifiuti e furto in abitazione furto aggravato di energie elettriche e furto sono i reati dei quali dovranno rispondere un 52enne ed un 44enne sono state identificate 34 persone di varia nazionalità ed eseguite numerose perquisizioni personali e domiciliari con esito negativo uno degli stranieri identificati è risultato da rintracciare ed è stato condotto in questura per ulteriori accertamenti questo è il risultato di una vasta operazione di controllo interforza coordinata dalla polizia di stato nella lotta all'immigrazione illegale numerose pattuglie della polizia di stato dell'arma dei carabinieri della guardia di finanza della polizia municipale coordinate dal dirigente della sezione volanti della questura il commissario capo Alessandro D'Arrigo coadiuvato dal commissario Guglielmo Lamagna hanno eseguito attività di controllo del territorio in centro storico con particolare attenzione ai quartieri Provvidenza e Angeli l'operazione volta a rintracciare e a rimpatriare eventualmente gli stranieri regolari l'intensificazione delle attività nasce dalla circolare del capo della polizia che aveva richiamato la necessità di conferire il massimo impulso all'attività di rintraccio di cittadini di paesi terzi in posizione regolare nonché allo sfruttamento della manodopera nelle varie forme di criminalità che attingono dal circuito della clandestinità in particolare attraverso una specifica attività di controllo delle numerose diverse forze di polizia ed in attuazione di piani di controllo congiunto con il contributo operativo delle polizie locali cosa che è stata confermata nella riunione che si è tenuta in prefettura nei giorni scorsi in assenza delle indicazioni fornite dal ministero dell'interno era stata raccomandata l'intensificazione dell'attività volta a rintraccio degli stranieri altri servizi disposti per il territorio della provincia saranno coordinati dai dirigenti del commissariato di Gela e Niscemi e dai comandanti della compagnia dei carabinieri nei territori di rispettiva competenza è stato pubblicato anche online sul portale del comune di Gela l'avviso per l'istituzione dell'albo per l'affidamento degli incarichi agli avvocati esterni all'ente l'atto predisposto dal servizio contenzioso del settore è stato trasmesso anche all'ordine degli avvocati l'avviso segue la delibera della giunta municipale che lo scorso mese di dicembre ha approvato il relativo regolamento su cui si è lavorato con la commissione consigliare agli affari generali preseduta dal consigliere Giuseppe Guastella le famiglie residenti nel comune di Gela possono presentare istanza per l'ottenimento del sostegno per l'inclusione attiva la misura di contrasto alla povertà prevede un sussidio economico ai nuclei familiari economicamente svantaggiati subordinato all'adesione ad un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa possono presentare in stanza le famiglie economicamente svantaggiate nelle quali siano presenti minorenni figli disabili o donne in stato di gravidanza accertata con un'isee inferiore o uguale a 3.000 euro i cittadini interessati in possesso dei requisiti richiesti e che non abbiano già inoltrato istanza potranno continuare a presentare le domande direttamente al protocollo generale del comune di Gela per scaricare l'avviso e il modello dell'istanza è possibile consultare il sito del comune oppure ci si può rivolgere all'ufficio di segretariato sociale in viale mediterraneo aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 il martedì e il giovedì dalle 15.30 alle 17.30 e adesso parliamo del convegno promosso dal Chivanis Club e dalla scuola Enrico Solito di Gela sui vaccini un invito a riflettere sulla disinformazione e sulla dilagante paura del loro impiego i vaccini un invito a riflettere sulla disinformazione e sulla dilagante paura del loro impiego è il tema che è stato trattato ieri nei locali della scuola Enrico Solito di Gela nell'ambito di un convegno organizzato in collaborazione con il Chivanis Club si è cercato di fare chiarezza sul delicato tema dei vaccini che hanno salvato milioni di vite e contribuito a far scomparire malattie mortali ieri sono intervenuti numerosi esperti i lavori sono stati moderati da Rita Domicoli pediatra di famiglia quello che sta succedendo purtroppo nel nostro territorio è che c'è un calo delle vaccinazioni questo di fatto consente a malattie che sembravano completamente debellate di ripresentarsi circolare con tutto quello che provocano le singole malattie in particolare io oggi ho parlato del rotavirus quindi della gastrointirite nei bambini più piccoli che questo virus provoca la vaccinazione previene in modo brillante questo tipo di patologia che è importante è un impegno particolarmente oneroso per i medici e per i costi del servizio sanitario io voglio esaltare le mamme ad far sì che i loro bambini vengono protetti da queste malattie approcciandosi in modo tranquillo sicuro e fiducioso nei confronti di queste vaccinazioni le vaccinazioni che hanno funzionato nel corso dei decenni e soprattutto da noi ci hanno fatto scordare che esistono e purtroppo esistono ancora delle malattie che quasi sono scomparse grazie alle vaccinazioni se dimalauratamente arriveranno a toccare una soglia inferiore a una percentuale di protezione che è del 95% e matematicamente certo e scientificamente corretto ripartono le epidemie negli ultimi anni in Italia si è assistito ad un notevole calo delle vaccinazioni in pediatria fenomeno preoccupante che ha richiamato l'attenzione dell'organizzazione mondiale della sanità e in Italia dell'istituto superiore di sanità e del ministero della salute i vaccini devono seguire praticamente l'iter della nostra vita un iter che inizia dalla nascita e forse ci accompagna alla morte però sicuramente il vaccino potrebbe molto spesso se fatto nei tempi e nelle modalità diciamo corrette potrebbe diventare un salvavita il Kevanese quest'anno ha voluto dedicare questo incontro proprio per promuovere e sensibilizzare le persone interessate sull'importanza dei vaccini in un momento in cui l'Italia è praticamente stata richiamata dall'organizzazione sanitaria mondiale per il fatto che c'è un calo dei vaccini quindi speriamo di riuscire a contribuire in maniera determinante a questa casa anche i cittadini gelesi con un indicatore della situazione economica equivalente pari o inferiore a 8.107,5 euro possono accedere al bonus relativo al sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche il valore è stato innalzato di circa 1.000 euro grazie ad un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico resta invariato a non oltre 20.000 euro di sé il requisito di accesso per le famiglie numerose per presentare domanda di agevolazione per il bonus energia è possibile utilizzare l'isè standard o ordinario e l'isè corrente valido due mesi nel caso in cui siano intervenute variazioni significative nella situazione reddittuale il calcio sposa la solidarietà in una giornata dal sapore di eccezionalità e il sangue si tinge dei colori bianco-azzurro del gel sulla scia di quello che da qualche anno lo slogan del club calcistico che Militens 3D la Fidas Adas locale e la formazione giulese sono scesi in campo per promuovere il nobile gesto della donazione del sangue all'unità di raccolta di via degli appennini giocatori staff tecnico e dirigenziale si sono sottoposti al prelievo di sangue propedeutico alla donazione dimostrando grande sensibilità verso il prossimo e soprattutto d'inverno con tante influenze tante epidemie e virus la donazione si abbassa e allora c'è bisogno di tutti c'è bisogno di queste opere queste operazioni di sostegno di sollecitare le persone a sostenere questi volontari questi centri queste persone che veramente hanno bisogno di sostegno di tutti se il calcio può servire ad una cosa importante come donare il sangue è giusto farlo la società si è attivata con la Fidas appunto per fare questo prelievo e questa donazione se ci sarà è importante e noi siamo fieri orgogliosi di aver fatto un gesto del genere non si tratta solo di un atto di solidarietà e di civiltà si mira anche ad educare alla prevenzione lo dice il presidente della Fidas Adas di Gela Enzo Emanuello la società la squadra la dirigenza staff tutti quanti si sono mostrati davvero sensibili a questa a questa importante iniziativa dimostrando di avere a cuore quelle che sono le sorti del prossimo donare sangue diventa un aspetto assolutamente di responsabilità della persona e il fatto che comunque il Gela l'abbia voluto fare con noi con la Fidas Adas per me mi riempie davvero d'orgoglio sono vero emozionato è bella questa maglietta che sto stringendo tra le mani il fatto che comunque ci sia il nome della Fidas Adas Gela sulla casacca sulla gloriosa casacca bianca azzurra è davvero un motivo d'orgoglio e il fatto che comunque possa essere promozionata la donazione del sangue attraverso la vitalità la gioia il sorriso di questi giocatori di questi calciatori della loro giovane età e che comunque in ogni caso come dicevo all'inizio non pensano soltanto al gioco non pensano soltanto al divertimento ma hanno anche a cuore la solidarietà e soprattutto l'aspetto relativo a quello che è il gesto di responsabilità della donazione del sangue è previsto per martedì 24 gennaio prossimo dalle 9 l'open day nei plessi Paolo Emiliani Giudici di Vianiscemi e plesso di piazza Salandra dell'istituto comprensivo San Francesco di Gela retto da Giovanna Palazzolo nel corso dell'iniziativa saranno illustrate le opportunità formative offerte dalla scuola e sarà possibile visitare i diversi laboratori consentendo ai piccoli alunni di partecipare alle lezioni delle classi e alle esperienze didattiche dopo la pausa di Natale di fine anno torna il Corriere di Gela in Edicola settimanale indipendente di attualità politica cultura e sport diffusione comprensoriale questi gli argomenti più importanti di questo numero articolo di apertura su Giovanni Giudice personaggio di spicco dell'arte pittorica una delle eccellenze di Gela che non manca quando vuole disferzare la politica che ritiene insensibile verso la crescita culturale del territorio in prima pagina anche la rubrica di Giulio Cordaro che questa settimana denuncia le gravi carenze in cui versa lo sportello gelese di riscossione Sicilia c'è anche il richiamo dell'intervista a Valentina Spinello assessore ai servizi sociali famiglia e turismo del comune di Miscemi Nello Lombardo firma il resoconto della seduta consigliare di martedì in cui si è parlato della costituzione di un gruppo di lavoro sul protocollo d'intesa con l'Eni all'interno le pagine dell'attualità e della cultura e infine lo sport con le finestre sulle due maggiori squadre di calcio il Gela e il Terranova ci fermiamo c'è la pubblicità rieccoci seconda parte del telegiornale sono aperte le iscrizioni per l'anno 2017 alla pubblica assistenza Procivis protezione civile di Gela le elezioni lo ricordiamo cominceranno mercoledì 1 febbraio alle 19.30 e si traranno presso la sala riunioni della Procivis per iscrizioni ed ulteriori informazioni è possibile recarsi fino al 31 gennaio presso la sede operativa della Procivis in via ossidiana 23 c'è anche un recapito telefonico 0933 9383 1 2 promossa dalla libreria Mondadori in collaborazione con il liceo scientifico Elio Vittorini di Gela si è svolta ieri nei locali dell'istituto scolastico a Piano Notaro la presentazione della libro di Sebastiano Tusa sovrintendente del mare della regione Sicilia e professore di paletnologia presso l'università degli studi suor Orsola Benincasa di Napoli il volume si chiama Primo Mediterraneo il ossaggio propone una serie di riflessioni sugli elementi di fondo che hanno caratterizzato la lunga vicenda mediterranea dalla preistoria al medioevo il mare più antico viene esaminato quale luogo di confluenza e di diffusione di merci saperi e culture nell'ambito dei vari sistemi mercantili ma viene investigato anche quale formidabile serbatoio di biomasse che hanno reso possibile la vita e lo sviluppo di numerose comunità costiere è una narrazione di storia antica però vista attraverso gli occhi di un contemporaneo di uno che vive il Mediterraneo attualmente quindi ci sono continui rimandi tra il passato e il presente nella speranza e nella da un lato convinzione ma soprattutto speranza che la storia possa essere utile per costruire un futuro migliore questo è il senso un po' di questo libro che ho voluto scrivere in maniera non banale ma discorsiva quindi comprensibile a tutti quindi un libro non estremamente diciamo difficile estremamente scientifico ma che sia appunto abbia un carattere narrativo per far capire attraverso vari esempi quello che è il Mediterraneo che è stato il Mediterraneo in funzione di un Mediterraneo migliore il dirigente scolastico Angela Tuccio i nostri ragazzi hanno già partecipato in collaborazione con la sovrintendenza del mare con il signore Cassarino al recupero di alcuni pezzi per cui quando mi si è data l'opportunità di averlo ospite in qualità di autore di un libro e quindi poter presentare nella mia scuola un suo libro io sono stata ben lieta di accogliere questo invito tra l'altro l'ho inserito in un momento in cui la mia scuola è in viaggio col tempo è il viaggio nel tempo del Vittorini che parte da Pitagoro in realtà oggi torno un po' indietro con il testo primo mediterraneo del professore Tusa dove si ripercorrono le tappe più importanti della nostra civiltà dell'inizio addirittura dell'epoca preistorica a giungere sino al Medioevo quindi un percorso perfettamente congruente e confacente sia con l'attività della scuola che con l'attività diciamo culturale che comunque tutti quanti dobbiamo prefiggerci uomini e donne di scuola sono aperte le iscrizioni al primo corso sub ex rec dell'anno 2017 valido per il conseguimento della licenza alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande il corso autorizzato dall'assessorato regionale delle attività produttive sarà avviato entro questo mese si svolgerà presso la sede della confcommercio Ascom Gela in via Cicerone 104 tutti gli interessanti dovranno effettuare l'iscrizione al corso entro e non oltre il prossimo lunedì 23 gennaio presso la segreteria della confcommercio dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19 c'è anche un recapito telefonico 0933 939718 il mondo contadino di ieri vecchi mestieri e curiosità al resuttano un libro che parla del passato dei mestieri di un tempo ma soprattutto della realtà contadina gli attrezzi che venivano utilizzati in quegli anni un libro che parla di memorie dunque quello di Cesare Ippolito presentato giovedì 19 gennaio 2017 a Caltanissetta nella Galleria Civica di Palazzo Moncada in presenza dell'autore del presidente della Proloco Nissena Giuseppe D'Antona e della storica Rosanna Zaffuto Rovello quello di tramandare una relazione giovanile c'è i vecchi vecchi sistemi di lavorazione della terra di un tempo e poi un altro messaggio quello quello di non dimenticare il nostro dialetto siciliano infatti in libro ci sono una serie infinite di espressioni proprio volutamente in siciliano ovviamente c'è la traduzione si parla di antichi mestieri in un momento in cui noi come Proloco stiamo portando avanti un'iniziativa con l'associazione storia e memoria che cura il museo di oggetti antichi che si trova a Borgo Petilia che noi vorremmo rilanciare magari portandolo in città in questo cederemo l'aiuto alla pubblica amministrazione per potere sia come Proloco sia come associazione storia e memoria rivalutare gli antichi mestieri in realtà il libro scritto da Cesare Ippolito parla del lavoro contadino dei campi della Sicilia interna risultano e soltanto l'emblema di questo mondo contadino del passato e l'autore si sofferma con grande attenzione con grande puntualità a descrivere il lavoro dei campi e a parlare di ogni oggetto di ogni attività di ogni lavoro che i contadini facevano è un recupero delle tradizioni del mondo contadino ed è una cosa importante nel mondo di oggi perché la cultura oggi si è massificata si è unificata e i ragazzi di Caltanissetta studiano le stesse cose che studiano i ragazzi che so io di Grosseto di Trento non c'è un riconoscimento dell'identità e i libri come questo servono a ricostruire e a far riscoprire la propria identità dialettale e della tradizione contadina continuano gli appuntamenti inseriti nell'ottantatresima stagione concertistica giolese promossa dall'associazione Amici della Musica Giuseppe Navarra domani alle 19 nei locali del Palazzo della Cultura Principessa Pignatelli Roviano si terrà il concerto lirico del trio Giovanna Nuara soprano Giuseppe Infantino tenore e Saluto Regiglio al pianoforte quarto memorial di calcio dedicato a Pino Molinello si terrà lunedì 23 gennaio alle 17.30 al campo Vincenzo Presti di Gela l'iniziativa è patrocinata dal Comune in collaborazione con l'associazione Santa Lucia Soccorso e con il gruppo Vecchie Glore l'ingresso allo stadio è gratuito la pagina del cinema all'antidoto di Bacchitella a Gela è in proiezione alle 19.30 e alle 21.30 il film Babbo Bastardo 2 e oggi al Teatro Comunale Eschilo di Gela Enrico Guarneri porterà in scena L'Avaro di Molière per la regia di Antonello Capodici appuntamento alle 17.15 per gli abbonati del turno B e alle 21.15 per gli abbonati del turno A ricordiamo che ogni singolo biglietto ha un costo di 12 euro abbiamo concluso anche per oggi vi ricordo che notizie e video dei servizi sono pubblicati sul nostro sito tg10.it e noi vi rimandiamo alle prossime edizioni grazie e arrivederci a presto